Noi abbiamo proposto un documento per la ripartenza, abbiamo voluto mettere nero su bianco quello che la città di Vibo Valencia può fare e che mette sul piatto a disposizione della cittadinanza, a disposizione degli imprenditori, delle attività produttive, delle partite IVA in generale di tutto quel mondo che è stato veramente flagellato da questa emergenza sanitaria. Non abbiamo avuto il flagello vero e proprio del virus, ma il flagello economico purtroppo quello sì, lo abbiamo realmente subito e in questo documento cerchiamo di mettere insieme i piccoli pezzi del puzzle e di ricostruire la nostra città. Innanzitutto abbiamo pensato al mondo delle attività produttive, per cui abbiamo messo sul piatto come comune nella convinzione che ciascuno debba fare la sua parte, il municipio, la regione, lo Stato e ancora dallo Stato stiamo aspettando provvedimenti che purtroppo tardano ad arrivare. Però pur nella carenza di provvedimenti normativi, noi abbiamo messo sul piatto molto quello che potevamo, abbiamo messo sul piatto tutto quello che potevamo. Abbiamo azzerato la TOSAP dall'1 marzo al 31 dicembre. Concederemo spazi gratuiti a chi ce li vorrà richiedere. Abbiamo sospeso la tassa di soggiorno, probabilmente si rivedranno i canoni concessori degli immobili comunali. Insomma abbiamo messo insieme tutta una serie di misure che valgono a portare ossigeno alle attività produttive. Non solo, ma abbiamo impresso un'accelerata al piano delle opere pubbliche, quindi al nostro mini piano Marshall. Sono circa 78 milioni di euro che saranno un flusso di liquidità, creeranno un flusso di liquidità importante sul nostro territorio. Io confido che nella prossima settimana si possa riaprire il mercato delle Clarisse e il mercato del lunedì giù a Vibbo Marina. Per cui stiamo lavorando in questa direzione. Però ovviamente trattandosi di aree mercatali bisogna essere particolarmente attenti perché ancora l'emergenza sanitaria non è finita. Tra l'altro si tratta di beni alimentari e dobbiamo stare particolarmente attenti alle misure di sicurezza. Quindi ci stiamo lavorando. Bisogna mantenere i giusti livelli di sicurezza, bisogna indossare la mascherina, bisogna indossarla bene, come sto facendo io adesso. Coprire il naso e il mento. E poi sentivo il Ministero della Sanità, un posto del Ministero della Sanità che dice toglietevela così, non la toccate mai. Ecco per cui sono delle cose importanti. Dobbiamo mantenere la distanza, come stiamo facendo io e lei in questo momento. Dobbiamo aiutarci con la mascherina, dobbiamo mantenere la distanza sociale, lavarci spesso le mani. Sono tutti accorgimenti che sono indispensabili. Del resto noi adesso abbiamo come la sensazione che tutto sia passato, ma in realtà il virus è ancora tra noi. Ricordo che in Calabria si sono registrati dei casi positivi all'esito di questi nuovi ingressi. Quindi dobbiamo sempre mantenere alta la guardia. Non dobbiamo perdere l'attenzione, non dobbiamo abbassare la guardia mai.